Quindi PHP è una merda, lol, gomitata, tirata di gomito con il vicino di banco e grasse risate, insomma, in tutta la stanza. Queste sono cose che accadono davvero, ho assistito a robe del genere in diverse stanze con sviluppatori e questo mi ha triggerato la scrittura di un blog post su LinkedIn che volevo un attimo leggere con voi, non tanto per essere autoreferenziale, non faccio una reaction al mio stesso post, questa cosa chi l'ha mai fatta? Nessuno. Inauguro questa novità, ma in realtà perché volevo un po' vedere con voi i commenti, quelli più frizzantini che sono arrivati, per vedere un po' anche qua, per riportare anche qua un po' di cacciara che si è fatta invece su LinkedIn su quel post, che ritengo interessante comunque commentare, condividere, insomma, divulgare anche qua. E tra l'altro vi dico però un retroscena di questo post che non sapete. Questo blog post mi è stato triggerato da un tizio, senza offesa ma non mi ricordo proprio come si chiamava, un ragazzo, uno sviluppatore WebAssembly, quindi uno controcazzi, cioè un bravo sviluppatore, uno passato di lì molto giovane, però insomma un bravo sviluppatore. Siccome stava scrivendo un tool per fare code coverage in WebAssembly, che è un bel problema, e poi abbiamo un po' parlato dello stato di WebAssembly e parlando di questo si parlava di garbage collector, quindi vabbè non stavo entrando nel tecnico di WebAssembly, però si parlava di garbage collector, e quindi insomma i linguaggi garbage collected sono un problema, eccetera. È venuto fuori il nome di PHP perché gli ho detto beh adesso vedremo con l'avanzamento se arriveranno dei linguaggi anche largamente utilizzati come appunto PHP. Oh, grande risate. Ecco lì si è iniziato poi, avevo provato a discutere di PHP perché la discussione si è spostata sul ma PHP è una merda, non vogliamo portare PHP in WebAssembly perché PHP è una merda. Nessuno nel 2024 svilupperebbe in PHP, perché mai dovrebbe farlo? Io ho cercato di spiegare il mio punto di vista su PHP, non solo tecnico, perché PHP tecnicamente credo che sia un ottimo linguaggio e che sia difficile confutare questa affermazione, a meno che proprio uno non vada a sviscerare gli internals di PHP e tirarmi fuori dei dati che mi confermino che PHP proprio a livello tecnico non è un buon linguaggio. Però a parte quello ci sono un sacco di motivi sociali anche per cui PHP ha senso in un ecosistema come WebAssembly perché appunto PHP muove il web, nelle ultime statistiche più del 70% del traffico web è gestito da server PHP e ci sono un sacco di progetti PHP, di sviluppatori PHP, quindi portarsi tutto questo storico dentro un progetto come WebAssembly che mira appunto alla grande compatibilità e portabilità ha assolutamente senso a parere mio, no? Eppure insomma non ce l'abbiamo fatta, alla fine è finito in LOL e non ha senso. Quindi mi ha triggerato la scrittura di questo blog post, di questo post su LinkedIn che poi ha portato a qualche commentino frizzante che vi voglio vedere. Allora, questo è il mio post, forse non leggo tutto. Comunque, PHP è una merda, vabbè, LOL. Questo è quello che sentirete da una buona parte dei dev presenti in una stanza appena numerete PHP. True story, provateci. Provate a andare a una conf, provate a andare a una conferenza generica, non al PHP Day magari, ma a una conferenza generica e parlate di PHP. Le reazioni nella stanza saranno un po' queste, soprattutto se l'età media è molto bassa. Non sperate di ottenere argomentazioni o di iniziare discussioni sui paradigmi di programmazione. Tradotto, non pensate che la discussione poi verterà proprio sugli internals, sui paradigmi, su come funziona il linguaggio in contraposizione con altri linguaggi come Rust, Go o JavaScript. No, è semplicemente un meme, come ho scritto. Va bene, un zocco duro di irriducibili lo reitera trovando sempre nuovi adepti con cui darsi di gomito. E ok, la verità, scrissi, che PHP ha un linguaggio costantemente aggiornato. Ha una meravigliosa, questo è vero, guardatevi la historia degli aggiornamenti di PHP, è una storia di aggiornamento costante e di miglioramento costante. Ha una meravigliosa e distesa standard library, questo significa che, poi ho scritto, consente di scrivere software complessi limitando al minimo la necessità di librerie esterne. Questo significa che se voi scrivete un software in PHP per risolvere un vostro problema, un software web tipicamente, è probabile, a differenza di molti altri linguaggi, quasi tutti gli altri linguaggi moderni, che non abbiate bisogno di ricorrere a librerie esterne, a moduli esterni installati con un package manager come Composer. Perché la standard library, quindi già quello che il linguaggio vi propone come sua libreria interna, è abbastanza corposa, abbastanza rifornita. Quindi già di base, senza librerie esterne, potete utilizzare una standard library che vi dà molte opzioni. Poi è facile da imparare e è una curva di accesso docile. Questo significa che i nuovi sviluppatori, infatti ho scritto i giovani sviluppatori, possono entrare facilmente nell'ecosistema non solo di PHP, ma proprio dell'informatica. Infatti come linguaggio didattico il PHP è perfetto, anche perché ti dà, avendo un suo interprete anche in command line, ti dà un feedback immediato di quello che hai fatto. Quindi tu scrivi codice, lo esegui, magari direttamente nell'IDE e vedi subito l'output. E questo è molto figo per uno sviluppatore che entra in informatica adesso, non deve installare tante librerie esterne, non deve capire la logica della compilazione, del debugging. No, scrive codice, lo esegui, ha risultato subito in command line. È molto facile. Poi la sintassi fondamentalmente è derivata da quella di C, quindi è facile che magari l'abbia studiato in molti corsi. Quindi imparare la sintassi di PHP è tutto sommato abbastanza semplice. Ma al contempo offre funzionalità avanzate, naturalmente. Gira su qualunque cosa, possa far girare il suo interprete. Questo PHP è un linguaggio interpretato, quindi per far girare il PHP serve l'interprete del PHP. Dovunque giri l'interprete del PHP, che sarà compilato per quella instruction set architecture, a quel punto poi girerà anche il PHP. Poi PHP può girare su un interprete compilato magari per altri target strani, tipo per WebAssembly. E infatti abbiamo visto l'interprete del PHP girare su WebAssembly. A questo punto abbiamo PHP che gira su WebAssembly. Per farla breve abbiamo un'ampissima portabilità. E poi ha un ecosistema estremamente maturo con framework come Larvel e Symfony, che sfido qui dunque a dire che non siano framework potenti e maturi. Adesso magari Symfony è un po' passato di moda, però Larvel è una soluzione assolutamente super matura. Se dovete creare un software back-end, quindi probabilmente con degli endpoint, rispondere a delle API. Ecco, Larvel mi pare di poter affermare con relativa certezza che è una delle scelte migliori che possiate fare oggi come oggi. E poi CMS come Drupal, che è una tecnologia sempre un pochino bistrattata, quella dei CMS, no? Però qual è il problema? Che spesso a tutti i livelli, dalla piccola attività commerciale alla grande enterprise, quello che i team, le strutture chiedono quando vi chiedono un sito a qualunque livello è di poterlo utilizzare, di poter scrivere contenuti, di poter maneggiare il workflow dei contenuti, di poter dare magari impasto dei contenuti a dei redattori che fanno delle revisioni, abbiano diversi magari livelli di permessi per modificare i contenuti. Insomma, un classico CMS. Tipicamente non è raro che vi venga richiesto di creare un CMS. Ora, se voi mi trovate un CMS migliore di Drupal e migliore intendo a livello oggettivo, cioè come possibilità proprio di espressione, di gestione del workflow, di gestione degli utenti, di gestione delle revisioni, insomma, proprio come strumento per editare contenuti, parliamone. E se quello che trovate è migliore è probabile che sia anch'esso in PHP, perché, insomma, CMS di quel livello lì proprio come grandezza e complessità scritti in altri linguaggi, francamente ne ho visti pochi. Certo, poi potete dirmi esistono CMS per JavaScript, CMS anche molto piccoli che vanno su piccoli database, hanno prestazioni eccezionali, certo. Però poi, quando si tratta di rispondere davvero alla richiesta di una redazione che deve andare a manipolare contenuti, ecco che ci scontriamo con un po' di limitazioni che dovete comunque andare a risolvere voi o, nel peggiore dei casi, dovete scrivere voi tutto. Perché magari la tecnologia che avete scelto vi sembrava super figa, però non esiste un CMS open source per quella tecnologia, dovete scrivervela voi. Dovete andare a reinventare la ruota, cosa che magari Drupal ha già fatto. Cito Drupal perché è praticamente il più grande progetto open source in PHP che esista ed è un CMS che ha una maturità praticamente vecchio quanto, quasi vecchio quanto PHP stesso. Quindi ha una maturità assolutamente comprovata. Poi è open source, è open source interamente, cioè dalla sua definizione, PHP open source, la sua standard library, la sua governance. Se voi andate su PHP foundation, questa è la, trovate proprio la governance del linguaggio. Che qui naturalmente non è una peculiarità di PHP, molti linguaggi sono così. Però è per dire, se voi avete bisogno di un linguaggio open source e con governance open source, qui in questo caso, avete PHP con la PHP foundation e potete anche voi contribuire magari all'evoluzione del linguaggio o banalmente alla sua governance. Non è una cosa scontata, banale, invece è una cosa interessante. La community di PHP è una community matura, è una community accogliente, è una community che facilita proprio l'ingresso, l'inclusione. Lo dico per esperienza, cioè l'ho provata, la community di PHP e dei progetti intorno a PHP ed è ampiamente adottato, l'ho detto. La grande maggioranza del traffico su web gira su server PHP, su backend PHP. Questo perché ha un senso storico, naturalmente, ma anche ha un senso economico. Perché i server che fanno girare PHP, grazie anche alla loro portabilità, ma proprio alle caratteristiche del linguaggio e anche alle caratteristiche storiche, sono server che hanno un costo contenuto rispetto a, insomma, a tecnologie più moderne, rispetto a un server che fa girare Node.js, magari è facile che sia più economico. Quindi per queste ragioni qua, trovate infinite possibilità di lavorare in PHP. Quindi ha completamente senso sposare questo linguaggio, anche dal punto di vista di mercato, no? Ed economico. Naturalmente, vabbè, ranto sulla soglia d'attenzione e poi vado a presentare il PHP Day, perché l'ho scritto anche per un po' lanciare il PHP Day di Verona, 16 e 17 maggio. By the way, ci sarò pure io, ci sarà il mio sentivo Paolo Menardi. Ma, volevo vedere un po' di commenti. Allora, devo dire che la maggior parte di questi commenti erano positivi. Cioè, che salterò naturalmente perché non ha senso andare a vedere i commenti che mi danno ragione, però, in molti, mi ha sorpreso anche questa cosa qua. Molti di quelli che seguono me, quindi ho creato una bolla un po' più vicina alle mie idee, molti di quelli che seguono me erano in realtà d'accordo con questa, con questa mia affermazione e insomma, quindi hanno fondamentalmente reiterato, a parte i ringraziamenti, ecco, ma hanno anche reiterato su questa cosa qua. Si fa, vedi, Gianluca per esempio va a mettere, a puntare il dito sul valore economico della scelta di PHP, Che trovi server PHP a costi molto bassi, cosa che magari in altri node, per esempio, Non riesci a trovare, fai fatica a trovare, ecco, quindi questo è interessante. quindi poi naturalmente altre questioni favorevoli, grazie, grazie, eccetera, però volevo andare su due post in particolare, uno di Fabio Rotondo, che scrive, appunto, vabbè, che voleva dire una cosa ma non aveva tempo di scriverlo, poi non so perché me l'ha scritta lo stesso, aspettare direttamente di scrivermi quello che volevi scrivermi, invece no, mi ha scritto, ti iscriverò, quindi poi mi ha scritto, effettivamente il suo commento è questo qua e vogliamo andare a vedere punto per punto cosa ha scritto per vedere un po' di confutare, perché poi l'ho scritto, perché poi io l'ho confutato, ho cercato di confutare punto per punto, quindi possiamo vedere, allora, inizia con uniformità e coerenza nel naming delle funzioni e delle convenzioni, GPHP soffre di una mancanza di coerenza nelle convenzioni di naming delle funzioni standard, quindi quelle della standard library, esempio, uso di underscore o camel case, va bene, e l'ordine dei parametri, ad esempio, l'ordine in cui a restring vengono passate le funzioni può variare, che è assolutamente vero, il fatto sta che, comunque, in quasi qualunque linguaggio in cui programmo, ogni volta che devo scrivere una funzione, devo andare a vedere la libreria o chiedere a copilot, perché non mi ricordo mai l'ordine in cui vanno i parametri, non me lo ricordo, è proprio un mio limite, io ogni volta, ma anche funzioni che uso da sempre, scrivo il nome della funzione e poi, qual è il primo parametro? Mica mi ricordo, devo andare a vedere l'API, oppure a copilot che mi dice qual è, comunque un IDE che mi dice qual è l'ordine di parametri da passare, vabbè, questo è un problema, questo ti costringe a programmare sempre con i docs di PHP aperti, sì, certo, anzi, questo è un bene, è un bene che tu programmi con i docs di PHP aperti, così vedi cosa fanno quelle funzioni, poi c'è, alcune funzioni per le stringhe iniziano con str underscore, altre no, e vabbè, questo, posto che sia un problema, non lo vedo come un grosso problema, ma comunque faccio notare che molti altri linguaggi hanno questi problemi di naming, perché il gruppo che ha creato la standard library a un certo punto storico ha preso delle decisioni, quelli che sono arrivati dopo hanno preso altre decisioni, magari sulla base dell'evoluzione dell'informatica in quel momento, e rinominare le funzioni vecchie a quel punto diventa complesso, perché vuol dire probabilmente rompere alcuni progetti scritti quando fanno l'appgate di versione, quindi si tende magari a lasciarle con la vecchia nomenclatura, anche se sbagliata, e magari creare degli alias, tutto sommato, ma ho letto vari post di working group che hanno definito gli standard di linguaggio, spesso dire questa funzione l'abbiamo chiamata così, non è stata una scelta felice, però l'abbiamo presa, dove bisogna prendere una scelta, è andata così, pazienza, potevamo fare meglio, pazienza, dare la stessa risposta anche con PHP, io gli ho risposto che molte le funzioni standardali sono state create prima dell'introduzione di una naming convention, perché poi c'è un working group in PHP che ha studiato proprio una naming convention, questa navoca però è arrivata più di recente, all'epoca non c'era, e quindi un linguaggio che ha 30 anni, ricordo, ecco, per retrocompatibilità dobbiamo rimanere anche con le funzioni che hanno un nome magari più sfortunato. Poi, ci sono gli errori silenziosi, dice, in alcune situazioni PHP può fallire silenziosamente senza generare un errore visibile. Ad esempio, se si tenta di accedere ad un array con una chiave inesistente, PHP potrebbe semplicemente restituire null senza segnalare un errore. Ora, a parte che vi sfido anche in JavaScript, per esempio, a trovare errori sempre. Anche in JavaScript non è detto che si trovi un errore sempre, spesso si trova delle cose che dici, boh, come mai non c'è un errore. Bisogna anche capire cosa ci stiamo, cos'è, secondo il linguaggio che cos'è un errore e cosa no. Cioè, gli errori, che non è che è sempre una definizione matematica di errore, bisogna vedere che cosa considera un errore e che cosa no. E comunque, in PHP esiste modo di settare il livello degli errori che vogliamo riportare. Quindi, settando, proprio, quando si inizia a scrivere uno script in PHP, il livello di errore e il livello di reporting degli errori, abbiamo un diverso grado di errori forniti proprio dall'interprete. Quindi possiamo controllare, possiamo fare più fine tuning sul livello di controllo degli errori, che è una cosa, comunque che in altri linguaggi non c'è, ce lo dà PHP. Poi c'è, dice, inconsistenza nell'uso delle eccezioni e degli errori. PHP ha introdotto le eccezioni con PHP 5 e molte funzioni e estensioni più vecchie ancora generano errori invece che eccezioni. Questo duplica il codice di gestione degli errori. Allora, qua io gli ho risposto, più vecchio di PHP 5 significa 20 anni fa, possiamo considerare il codice legacy. in effetti, qua spesso trovate sul web PHP 5 perché non tutti hanno aggiornato la versione di PHP, però PHP 5 ha 20 anni. Quindi non aggiornare significa decidere di rimanere con codice legacy. Se il codice legacy gestisce gli errori in modo legacy, ci arrangiamo e accettiamo questo compromesso. Abbiamo deciso di rimanere sul codice vecchio, gestiamo gli errori in modo vecchio. Che dobbiamo fare? Si tratta di 20 anni, PHP 5. Poi, mancanza di eccezioni per errori critici. Alcuni errori critici in PHP, come gli errori di sintassi o gli errori fatali, non possono essere catturati o gestiti tramite try-catch block. Infatti, si possono utilizzare set-error-rendler e register-shutdown-function. Cioè, sono funzioni della standard library che ti permettono di specificare a PHP cosa fare in caso di errore. Quale funzione chiamare in caso di errore. Che è piuttosto comodo. Bisogna però conoscerlo, cioè bisogna fare uno step in più e conoscere anche questo livello di gestione dell'errore del linguaggio. Se non si conosce, insomma, si fa fatica ad utilizzarlo bene. Poi, la gestione dell'errore di precata e legacy. Per capire la lunga storia, ah no, scusate, error reporting. La configurazione dell'error reporting può essere fonte di confusione. Spesso vengono attivati troppo errori si viene sommersi anche da messaggi non rilevanti. Qua, ripeto come prima, bisogna settare il livello di reporting degli errori in PHP se non si conoscono i vari livelli è un problema del programmatore però non del runtime, non del linguaggio. Poi, gestione degli errori deprecati a legacy. PHP è una lunga storia e molti progetti in legacy continuano ad utilizzare pratiche di gestione degli errori ora considerate deprecate come l'uso di et per sopprimere gli errori o l'uso di funzioni come error get last invece delle più moderne tecniche di gestione delle eccezioni. Anche qua però si tratta di conoscere il linguaggio conoscere PHP conoscere il runtime conoscere gli interpreti e qua bisogna essere un pochino dei buoni programmatori andarsi a vedere come migliorare la gestione degli errori del linguaggio. Quindi, guarda, sono pratiche deprecate non possiamo considerare i difetti del linguaggio e poi comunque abbiamo tool di static analysis e unit testing quindi ricordo sempre che non abbiamo soltanto PHP la standard library l'interprete e l'editor abbiamo altri tool che la community di PHP ha costruito negli anni che ci fanno static analysis sul codice che abbiamo scritto non solo ci fanno anche delle esecuzioni del debugging a runtime del codice e ci dicono cosa può essere migliorato e cosa no gli IDE stessi gli IDE di JetBrains per esempio ci vanno a specificare come migliorare un certo punto del nostro linguaggio del nostro codice che magari abbiamo scritto male comunque questa è la mia idea no? La tipizzazione debole dice mancanza di tipi generici PHP non ha tipi generici questo non permette controlli strict in fase di compilazione inoltre impedisce scrivere il codice fortemente tipizzato quindi più generico no? sta procedendo il lavoro sulla tipizzazione c'è un working group PHP in cui si parla di tipizzazione quindi i tipi esistono in PHP sono stati introdotti di recente il lavoro sulla tipizzazione all'interno di PHP sta procedendo potete andare a vedere si parla tra l'altro del fatto che sia particolarmente complicato introdurre i generics perché vorrebbe dire lavorare molto low level sull'interprete quindi non è una cosa che si riesce a fare così facilmente però sta procedendo ecco tutto sommato comunque se PHP è un linguaggio devolmente tipizzato non pensiamo di chiedergli di essere quello che non è rimano un linguaggio devolmente tipizzato possiamo però utilizzare ripeto altri tool esterni a PHP che ci consentono di ecco di definire delle logiche delle best practice da utilizzare nel nostro codice per i tipi anche JavaScript di base è un linguaggio devolmente tipizzato però con le sovrastrutture che abbiamo costruito per esempio con TypeScript ma anche con altre cose con JS Doc e con con tool esterni al linguaggio stesso abbiamo potuto forzare ecco l'introduzione e l'adozione dei tipi in JavaScript poi abbiamo l'ereditarietà singola quindi PHP supporta solo l'ereditarietà non riesco a dirlo supporta solo l'ereditarietà singola per ovviare a questo PHP luce di traezza ma questa soluzione può portare a una maggiore complessità e io dico meglio che PHP non supporti che supporti soltanto l'ereditarietà singola perché se uno non sa cosa sta facendo specialmente se ha le prime armi e si trova davanti a gestione del OP un pochino flessibile un pochino libera e poi alla fine dopo qualche livello non riesce più capire cosa sta facendo e anche rileggere quel codice è più complesso quindi meglio che ereditiamo da una classe sola e siamo a posto i traits hanno un uso tutto sommato piuttosto limitato all'interno del linguaggio quindi dove servono vengono utilizzati mi pare con tutto sommato con piacere ecco dove non servono non sono utilizzati quindi sfruttiamo le caratteristiche del linguaggio per scrivere un codice scritto bene poi se qualcuno non piace l'ereditarietà singola ce ne faremo una ragione e andiamo a usare java che vi devo dire il late static binding quindi lsb può essere difficile da leggere qua naturalmente si tratta sempre di interno di conoscere il linguaggio e il late static binding ha molte critiche in php se volete sapere che cos'è andate a cercare late static binding trovate delle discussioni dappertutto su questa caratteristica del linguaggio ma si tratta di conoscerlo può essere difficile da leggere certo ma si tratta di comunque pratiche piuttosto avanzate tipicamente un junior non si troverà davanti ai codici di questo tipo se lo è comunque bisogna studiare e conoscere quel linguaggio e basta è difficile si tratta di capirlo di conoscerlo ora la reflection incide sulle prestazioni a parte che è opinabile questo ci sono dei casi in cui effettivamente facendo dei benchmark precisi la reflection delle classi anche qua sto parlando per chi magari conosce un po' php comunque la reflection delle classi porta a prestazioni inferiori ma naturalmente se hai bisogno di uno script php ad alte prestazioni non usi la reflection mi pare è una pratica che incide sulle performance come tantissime altre pratiche come tantissime altre pratiche anche in altri linguaggi incidono sulle performance quindi se hai bisogno di high performance sei in un contesto in cui ti vengono richieste alte performance non usare pratiche che ti portano a incidere sulle performance quindi non usare la reflection in caso di high performance no? e poi mancanza del metaprogramming quindi scrivere codice che scrive se stesso che annota insomma questa è una cazzata perché il metaprogramming in php esiste anzi forse ho fatto anche ho specificato anche dei dei riferimenti no dei riferimenti no però ci sono delle librerie che stendono la standard lib devo chiudere la finestra perché ci sono i cani allora ci sono alcune librerie che stendono la standard lib e quindi possono ancora di più permettervi di fare interventi di metaprogramming se vi servono quindi tra l'altro anche Mirko Bavini che saluto ha scritto qualcosa a proposito ha scritto anche sul ecco sul no aveva scritto sul metaprogramming no non ha più scritto sul metaprogramming eccolo qua c'è a parate phpsten no l'ha scritto Alessandro Lai scusami Alessandro Alessandro Lai ha scritto sul metaprogramming quindi c'è phpsten per esempio gli attributes le annotation ovviamente e i magic method quindi c'è metaprogrammazione ci sono dei costrutti proprio del linguaggio oltre a librerie esterne quindi non è vero quindi abbiamo sfatato un po' eh tutti i miti che che Fabio Rotondo ha provato a ributtarci nel calderone per dire che PHP è brutto è un linguaggio brutto è una merda e fare un po' di gomito no però insomma non voglio Fabio nulla contro di te naturalmente ho preso il tuo perché mi è anche piaciuto il tuo commento perché era proprio molto intenso no e esaustivo e quindi mi piace quando qualcuno mi commenta con delle opinioni ben spiegate lunghe eccetera andiamo a vedere cosa sono andiamo a confutare i singoli punti ma abbiamo qualcosa di cui discutere se semplicemente uno mi scrive ah 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 è una merda non c'è niente di cui discutere nel tuo caso invece hai fatto bene a scrivere queste tue opinioni ho confutato perché mi sembrano confutabili però mi piace che tu me le abbia a mandare ecco quindi sono contento quando qualcuno mi scrive dei commenti così così pieni e in ultimo volevo volevo farvi notare questo anche qua non è ad persona ma è quindi Samuele Bertocco non te la prendere non è contro di te però mi ha fatto ridere che insomma tu hai scritto come commento elencata almeno un motivo per cui dovrei usare PHP nel 2024 al posto di Next che davvero si presta si presta a battute di qualunque tipo proprio è una domanda è una è un commento che ha veramente pochissimo senso è proprio è il contrario di quello che ha scritto Fabio cioè Fabio ha argomentato molto bene pure tanto e quindi possiamo andare questo è proprio un commento che è come buttarla in cacciata allora io uso Next al posto di PHP che non ha nessun senso a passare che stai confrontando un linguaggio con un framework ma proprio perché compariamo Next e PHP non ha senso dipende da un sacco insomma non ha nessun senso questo commento non ha senso però comunque a me è venuto subito da risponderti non è controllato da una multinazionale no non devo spiegarla no perché Next Next fondamentalmente è controllato da Vercel che è una multinazionale insomma americana insomma che decide le evoluzioni di Next che ripeto però non è un linguaggio è un framework su JavaScript quindi a meno devi avere hai tre livelli di possibili cambiamenti quando usi Next perché ti può cambiare la standard library di JavaScript raro ma ti può cambiare ti può cambiare Node.js meno raro e ti può cambiare Next stesso quindi hai tre livelli PHP ti cambia una roba sola poi se aggiungi un framework beh hai due livelli però tipicamente i framework sono pochi vanno un po' seguono un po' il linguaggio vabbè comunque il fatto che non sia controllato da una multinazionale ma che ci sia una foundation dietro a cui si può anche partecipare come working group che vanno a vedere proprio l'evoluzione del linguaggio ecco vuol dire non dipendere dalle scelte di un'azienda questo volevo un po' dire ma insomma Alessandro Lai poi ha completato il mio commento parlando dell'ecosistema delle librerie che sono più stabili più affidabili anche qua un'opinione personale però possiamo vedere possiamo un po' andare a vedere e poi richiede un numero probabilmente di un ordine di grandezza inferiore rispetto a javascript cioè vuol dire che se tu installi un progetto next tipicamente avrai un node modules gargantuesco mentre un progetto php ti assicuro che le librerie dipendenti sono molto di meno e ne avrai molto meno dipendenze ha un ottimo package manager cioè composer con composer hai un package manager solido maturo comprovato ecco e uno solo non mille ora non perché gli altri ne abbiano mille però gli altri ne hanno un po' ecco ne stanno nascendo un po' in php ne hai uno e funziona molto bene composer ha degli standard psr psr sarebbe php standard recommendation quindi ha degli standard creati appunto da working group che li studiano li discutono portano avanti questa discussione su gli standard e poi li inseriscono li adottano nel linguaggio e tutta questa discussione è condivisa è portata avanti da dei gruppi che pubblicamente decidono dell'evoluzione del linguaggio e poi anche Alessandro Maurizio che parla delle 12 gigabyte di node modules vabbè per dire appunto che le dipendenze sono un pochino più piccolette basta questo volevo dire su php php non è una merda questo ve lo posso assicurare php è un linguaggio moderno è un linguaggio che ha evoluto proprio in 30 anni non è più il linguaggio neanche di 10 anni fa è un linguaggio più moderno è un linguaggio con cui potete provare vari tipi di paradigmi potete programmare oggetti potete programmare con il functional programming lo potete fare in php si può fare e funziona bene ha un ecosistema di librerie di test di unit testing di testing end to end di testing di comportamento ha degli interpreti non degli interpreti dei degli stati dei tool di static analysis altri tool costruiti proprio attorno a php i cms insomma ha tante ragioni per cui potreste amarlo non snobbatelo perché sentite dire su reddit o in qualche stanza di programmatori fighissimi che php fa schifo perché non è così e se lo snobbate perché l'avete sentito dire vi perdete un bel linguaggio una bella community anche e probabilmente molte opportunità di mercato perché php è ancora un linguaggio che sul mercato è richiesto ha tanti appoggiati php presenti offre dei cms che out of the box tra virgolette forniscono già spesso la risposta alle richieste dei vostri clienti che poi potete andare a reiterare e a migliorare e cosa altro dire di più insomma questo è commentate se non siete d'accordo con me scrivetemi confutate la mia idea basta questo volevo dire su php ci vediamo alla prossima ciao ciao